hello guys ciao ragazzi bentornati welcome back allora I have an important update praticamente based on my portfolio cioè all the work tutto il lavoro che ho fatto fino adesso è il portfolio si chiama cioè del vostro del lavoro che ho fatto io quindi anche voi potete avere lo stesso successo insomma praticamente youtube non è più solo un sito per condividere video cioè youtube is no more only a channel for share videos but it became a little company cioè è diventato un piccolo una piccola compagnia una piccola azienda per adesso aperta a brand perché comunque mi stanno arrivando a lot of sponsor for me and to the new sponsor that you are watching the channel we are very open mind because based on our sponsor you can see the social blade we are a B rank comunque we are going B my plan is to go B plus here in social blade B plus almeno poi we have twitter that is exploding abbiamo twitter che sta esplodendo sto facendo ai 20 e 30 follower al giorno in twitter 20 30 follower every day e share all my video there poi based on social blue book cos'è social blue book è il sito dove potete vedere quanto vale veramente il vostro canale quindi vi consiglio di andare a iscriversi perché c'è il piano free cioè you can see social blue book how really value your video quindi il mio canale in questo periodo vale 36 dollari every video 36 dollari every video quando uno sponsor vi chiede di fare un video questo è il costo però io sono molto generoso quindi il mio costo è 25 dollari cioè a video però è un uno strumento utilissimo perché a volte le persone dicono ma quanto vale il mio lavoro youtube ecco quello è social blue book capite quanto vale veramente un vostro video iscrivetevi subito qua che è una comunque per capire veramente avete 10.000 iscritti fate la media di 500 visual a video social blue book vi dice quanto veramente vale poi ho anche il blog che comunque è un blog che ho aperto vari anni fa comunque ho i miei seguaci anche qui che è xmandredinfo.blog.com sono il mio so beh i share every video there poi i have linkedin but linkedin ragazzi you have no linkedin you must have you wanted that your work online became a real work you must have a good linkedin profile qui potete mettere il vostro curriculum e tutte le aziende li vedono questo è il linkedin perché youtube non è solo un metodo per il passatempo si è un passatempo però può diventare una vera e propria fonte di guadagno e non alternativa ormai youtube non è più alternativa anzi sta diventando come un media grande come la televisione è proprio un vero e proprio media quindi non è più passatempo quando state entrando su youtube sono i brand che stanno guardando e i migliori brand capito i migliori brand del mondo tante persone hanno trovato una foto di guadagno superiore a quello che consideriamo un lavoro nuovo quindi per me adesso è diventato una piccola compagnia si tratta solo più di fare video ma di mettermi nel mondo delle piccole delle piccole compagnie e poi io google ma perché il mio google map è fenomenale quando vado in un posto e apro google map almeno cinquantamila persone vedono se io metto la stellina se io metto 5 star e entro in un mall e metto la piccola e 5 star in quel mall 50.000 persone vedono se io vedo che questo posto è buono e ho scoperto questo quando ando in Cyprus perché in Cyprus mi piace andare a provare i cannesotri in un mall perché c'è un mall molto bello e non ero molto bene in blocchi in quel periodo io faccio qualche blocchi ma non come ora e non più schifo perché non c'è più robbi ma un piccolo compagnie quindi stiamo lavorando come un piccolo compagnie quindi sì, è divertente ma in questo periodo è interessante ho generato video questo è quello che youtube è valutato e mi invitano in diverse meeting tra youtube e altri è stato molto buon summit per creare perché è interessante perché io studio anche computer science ho un grande endorsement con Adobe che posso capire e studiare molto profondamente come funziona come ho generato video che potete vedere in mio canale in mio canale ho utilizzato i nuovi programmi che youtube ha valutato molto anche youtube potete mettere questo in i tuoi titoli in i tuoi thumbnail in i tuoi descripiti usando anche TubeBuddy e VidIQ potete fare questo quindi potete avere un alto quando edito in i tuoi video quindi potete avere un migliore un migliore un migliore un migliore un migliore un migliore perché sono in internet molto il migliore quando ho cominciato il migliore il migliore il migliore il migliore quando ho cominciato il migliore quindi ho utilizzato il migliore il migliore il migliore poi ho anche il mio Instagram hanno cercato di hack questo oggi e ho fatto un video ma ho cercato di hack YouTube perché YouTube è più fallibile in Instagram però c'è molti scatti invece quando una brand YouTube è sicuro che non è scatti è legittimamente questo lo capisco Instagram si dicono hai il contratto ma dicono 50.000 dollari per una foto è scatti invece YouTube dicono 25 20 dollari per un video è più legittimamente e poi ho il mio TikTok comunque tutto questo insieme sono 100.000 persone e prima ho un canale comunque che esplode nel 2010 ho un canale diversi un canale 185.000 e non ho un canale ma molto successo con un canale quindi voglio dire che Ormai non è più solo sì è un passaggio però è anche un piccolo come io spero queste brand vengono e posso lavorare per loro vediamo il prossimo video ciao